salve come mi piacerebbe dire ciao a tutti ragazzi però non sono capace mi dispiace salve a tutti voi come potrete vedere se visiterete il mio canale ho provato anch'io la mia lettura di Pinocchio l'ho decisa in breve tempo per la verità e anche l'ho portata a termine in breve tempo neanche due giorni e neanche due giorni l'ho cominciata e l'ho postata che vi garantisco un tempo abbastanza breve per una dimensione di questo tipo di una lettura di un video Pinocchio perché? Pinocchio è un ricordo della mia infanzia Pinocchio ricordo che me l'ha letto il mio maestro maestro che ho avuto alle elementari dalla terza alla quinta elementare una di quelle persone che insomma ti segnano nella vita perché era un vero maestro di quelli che ti sanno anche valorizzare insomma e in realtà ci ha messo anche del suo nel senso che ci ha preso in quattro alla fine della quinta elementare ci ha portati a casa sua e ci ha insegnato gratuitamente l'analisi logica in modo tale che potessimo arrivare un po' più preparati alle medie ha scelto i migliori allora si faceva così insomma quelli che avrebbero continuato che sarebbero andati alle medie c'era la possibilità allora di scegliere già in quinta elementare tra andare alle medie o andare all'avviamento l'avviamento professionale insomma che già si sapeva quando si andava all'avviamento molto probabilmente ci si sarebbe fermati alla terza avviamento e poi si avrebbe cominciato a lavorare insomma o fare al massimo una scuola di quel perito aziendale oppure di quella per segretario d'azienda e così via e invece noi ci ha preso insomma ci ha insegnato l'analisi logica quindi un maestro di quelli che non so forse ci sono ancora non ci sono più la classe allora era di più di 30 allievi maestro che faceva in modo che chi era più bravo aiutasse i meno bravi insomma che ci fosse un rapporto anche di didattico tra che non divideva ma che in qualche modo riuniva insomma noi i vari bambini e che cosa che rendeva gradevole anche piacevole andare a scuola anche se ripeto eravamo più di 30 in classi e una sola figura maestro che poi ho incontrato anche più tardi quando sono diventato grande diciamo così e lui ricordo che ha utilizzato l'ultima parte della lezione per molto tempo quindi l'ultima mezz'ora l'ultimi 20 minuti di scuola in attesa che suonasse il famoso campanello e facendoci delle letture quindi leggendoci lui insomma alcuni libri che ricordo bene insomma ci ha letto cuore ci ha letto le lettere di san paolo ci ha letto mabel tra gli eschimesi e ci ha letto pinocchio poi altro non mi ricordo ce li ha letti abbastanza integralmente insomma no e questo per noi faceva sì che che il tanto spiccato suono del campanello che che doveva liberarsi da questa sofferenza della scuola della lezione dello star fermi in realtà venisse più tardi possibile insomma ci auguravamo che che arrivasse più tardi che arrivasse un po' più in là con la lettura il nostro maestro e poi posso fare anche il nome insomma visto che è morto da tanto tempo si chiamava Antonio Bizzotto e allora Pinocchio questa lettura di Pinocchio è quella che poi mi è rimasta della figura di Pinocchio perché se mi chiedo poi l'ho mai letto veramente questo libro io dopo più tardi mi devo rispondere di no insomma io non ricordo di aver più letto Pinocchio a doppio di allora ma Pinocchio è rimasto comunque un mattone nella mia mattone in senso positivo insomma cioè una pietra miliare di quello che è il mio ricordo della letteratura dell'infanzia insomma no un po' come il libro della giungla che invece mi sono letto per conto mio almeno nei racconti principali forse non in tutti perché allora mi avevano regalato la prima comunione il libro della giungla con il quale mi sono confrontato fin da piccolo poi insomma facendo anche il lupetto per poco tempo per la verità ma e quindi ricordo che ne ho io di Pinocchio e ricordo che mi sono fatto con con la mente di un bambino insomma di un bambino di 9-10 anni insomma proiettandomi da quel che mi ricordo sulla figura di Pinocchio cioè Pinocchio era la figura su cui io mi proiettavo insomma no e le sue avventure mi ricordo erano un po' anche le mie avventure insomma l'ansia per il superiamento di queste di queste avventura allora lo vedevo così insomma con la mente di un bambino che si proiettava nel personaggio di Pinocchio senza sapere bene neanche cosa rappresentasse chi fosse cosa ma d'altronde non era necessario insomma era necessario sentirlo emotivamente questo personaggio no viverlo proiettandosi in lui cosa e apro una breve parentesi che che bisognerebbe fare in qualche modo no cioè questi personaggi Pinocchio il piccolo principe altri personaggi sono quei personaggi contenuti in quei libri che dovrebbero in qualche modo educarsi al sentimento educarsi agli affetti insomma educarsi al sentire dovrebbero essere parte di un modo di come dire di formare i ragazzini i giovani e di abituarli ad avere coraggio per vivere i loro sentimenti e per portarli al giusto sbocco alla giusta finalità insomma a dove il sentimento dovrebbe in qualche modo portare e rendere migliore la vita ci sono dei libri secondo me che sanno educare insomma al sentimento all'affettività diciamo così tra questi quelli che ho citato ma potrei citarne anche altri ma ne viene in mente un altro citarò un altro il libro di Saroyan la commedia umana altro bel libro insomma che mi pare faccia parte anche della letteratura per le scuole medie e quindi Pinocchio rappresentava questo e come questo è rimasto nella vita poi Pinocchio è stato recuperato insomma in tanti film e in tante cose che però non mi hanno mai appassionato tanto per la verità e la causa scatenante poi di questa rilettura che ho cercato di farne o di questa lettura mia insomma che ho cercato di fare e che ho postato è stata la visione nei giorni scorsi l'altro ieri mi pare del film di Garrone su Pinocchio dal quale sono stato colpito un po' per insomma fondamentalmente per per le atmosfere per il modo di realizzarlo insomma per come ha costruito i personaggi soprattutto fantastici insomma per l'ambiente e anche per certi paesaggi insomma per l'ambientazione che ne ha fatto del film e qui insomma mi sono accorto che poi nel momento in cui ripenso adesso a Pinocchio lo ripenso con un taglio diverso di quando ero bambino cioè lo ripenso dal punto di vista dell'adulto cioè dal punto di vista di chi ha passato il muro e di chi si è confrontato con quattro figli insomma come mi sono confrontato io quindi con tutti i problemi con l'adolescenza con il tentativo di comunicare con il tentativo magari di cercare di evitare ai figli di fare determinati errori che poi invece dovevano fare insomma perché dovevano farsi la loro esperienza e quindi diciamo guardando Pinocchio adesso non più dal punto di vista tanto del burattino che poi insomma in questo momento mi è simpatico fino a un certo punto ma dal punto di vista del padre insomma di Geppetto del punto di vista di quella diciamo di quella componente della società insomma oppure della famiglia che deve segnare il limite in qualche modo al godimento godimento al quale invece tendeva Pinocchio quando era piccolo insomma quindi liberandosi di tutti i vincoli soprattutto del vincolo paterno ma anche di tutti i vincoli a cui veniva in qualche modo sottoposto insomma quella responsabilità che gli si voleva dare ai confronti anche della sua vita quindi la scuola lo studio tutte queste cose qua e di cui Pinocchio allora si voleva liberare e invece adesso lo guardi con la mentalità invece di chi questa responsabilità in qualche modo se la deve assumere e la deve far capire anche come come necessaria quella del limite ai bambini che che gli sono vicini insomma ai figli che ormai sono diventati grandi che insomma quello che dovevano imparare l'hanno imparata ma soprattutto ai nipoti insomma che adesso sono più piccoli e quindi un altro punto di vista poi mi chiedevo se Pinocchio in realtà che è stato scritto insomma intorno mi pare al 1880 è giù di là insomma tra l'80 e il 90 non mi ricordo esattamente ma Pinocchio è stato ambientato in una società povera no? molto povera diciamo artigiana contadina insomma è una società in cui diciamo il risparmio il come dire non buttar via niente la responsabilità verso quindi quello che ti poteva dare la scuola la necessità di studiare perché era l'unico modo di di cavarti fuori insomma di arrivare sarebbe ancora così così attuale insomma cioè quegli insegnamenti che troviamo così costanti così ripetuti nel libro se il libro fosse stato scritto adesso li ritroveremo ancora così cioè io mi ricordo che insomma anche dai miei genitori insomma il messaggio che ricevevi è guai buttar via anche una briciola di pane insomma no? si doveva consumare tutto quello che ti davano no? o manzi questa finestra o salti quella finestra insomma no? cose che vengono fuori su Pinocchio e cose che anche la la società in cui sono cresciuto io da bambino ti ti riproponeva insomma no? come insegnamenti diciamo morali come insegnamenti di comportamento nella vita il prendere la medicina amara insomma mi ricordo l'olio di ricino l'olio di fegato di merluzzo insomma queste cose no? le quali ti saresti voluto liberare ma non ti potevi ribellare a tutte le punture iniezioni insomma che mi sono visto fare da bambino insomma che ogni tanto mi hanno fatto venire anche qualche accesso eri costretto entro questi 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 limiti cioè la tua voglia di libertà era compressa e anche come dire la necessità della tua salute per far star bene anche i tuoi genitori insomma che erano molto preoccupati quando tu stavi male e adesso Pinocchio lo rivedrà in un altro modo con gli occhi di un adulto insomma guardando più alle figure adulte quelli che rappresentano invece la legge rappresentano la necessità del limite cioè del limitare il godimento del bambino quella voce che che cerca di di evitare che che Pinocchio si rivolga soltanto o alla fine vada a finire nel paese dei balocchi insomma avvertendolo del pericolo Pinocchio domanda sarebbe ancora così si troverebbero gli stessi avvertimenti gli stessi insegnamenti diciamo che che troviamo nel libro se fosse stato scritto adesso rivolgendosi ai bambini di adesso me lo chiedo forse no e poi l'altra domanda che mi facevo Pinocchio come è successo a me quanti di voi l'hanno effettivamente letto cioè hanno letto il libro dall'inizio alla fine oppure non si è non siamo rimasti fermi nei cliché di Pinocchio no nel in alcuni episodi no il manzafuoco il paese dei balocchi la fattina dai capelli turchini il grillo parlante ma alcune cose senza vederlo nell'insieme del racconto perché tutto il racconto o tutto il libro insomma nel suo sviluppo ha in sé un andamento per cui ogni episodio in qualche modo è la conseguenza di un altro ed è necessario all'unità del racconto io ho questa impressione ma vorrei che magari voi me la smentiste che Pinocchio lo conosciamo in tutti insomma è universale insomma è una cosa che fa parte del patrimonio di ciascuno di noi insomma almeno della fantasia di ciascuno di noi ma che in realtà il libro così come è scritto l'abbiamo letto in pochi pochi l'hanno veramente letto dall'inizio alla fine magari molti l'avranno letto anche dieci volte insomma quelli che si sono appassionati al libro però la gran parte di noi ha questi ricordi infantili o qualcuno gli ha letto un brano oppure hanno visto qualcosa in televisione e così via però sono rimasti diciamo non tanto alle parole del libro quanto magari alle immagini che hanno visto o nei cartoni oppure nelle realizzazioni televisive che non sono state fatte o cinematografiche insomma da Benigna bene adesso a Garrone e così via a quello di Comencini insomma ecco io per la verità continuo a preferire il libro scritto cioè la parola scritta la parola che si legge rispetto alla rappresentazione cinematografica o teatrale o quello che volete che ne viene fatta nel senso che la parola scritta mi lascia libero di immaginare soprattutto di immaginare il fantastico come in Pinocchio no? mentre quando mi trovo il personaggio già rappresentato soprattutto il personaggio della fantasia quello rappresentato anche se è bello se è suggestivo ma mi limita in qualche modo no? poi alla fine quando ripenso a quel personaggio rivado sempre a quell'immagine che ho vista e questo non mi piace preferisco crearmela io l'immagine sulla suggestione della parola perché anche la parola in questo libro in realtà è bella è un libro scritto bene insomma è un libro in cui anche la scelta del lessico e la successione degli avvenimenti ti prende insomma è è densa e poi c'è questa cosa c'è un aspetto caschiano che io percepisco quando leggo quando leggo Pinocchio penso a a Samsa Gregor Samsa che a un certo punto si sveglia vabbè chiamatelo come vuole come volete ma scarafaggio insomma quell'essere immondo in cui si trova trasformato quella mattina il risveglio ma che pur rimanendo un essere immondo continua a pensare a sentire come se non fosse successo niente cioè come una persona normale immagino anche Pinocchio perché Pinocchio è un essere diverso no? è un burattino è un qualcosa che che nasce diverso che nasce che quando deve dare un pugno da un pugno oppure una gomitata fa male perché è fatto di legno no? però sente come una persona normale come un bambino normale no? questa coesistenza no? di reale no? perché poi la vita che affronta è anche una vita reale in certo modo cioè con problemi reali no? quello della scuola quello della miseria quello dell'ubbidienza ai genitori e così via a Geppetto insomma più che ai genitori ma anche alla Fatina però in una dimensione con un corpo che non è un corpo reale e poi con tutti i personaggi che non sono diciamo che non si trovano nell'esperienza reale sono tutti questi animali che arrivano che sono trasformati ma che sono frutto della fantasia per cui anche qua c'è una coesistenza di reale e di surreale di fantastico che che dà un clima particolare insomma a questo a questo libro no? in realtà è una fiaba ma è una fiaba che ha dei contenuti che si appoggia su su delle istanze che sono quelle vitali che sono molto della vita insomma della vita anche della rappresentazione delle cose fondamentali della vita e quindi è una fiaba fino a un certo punto vabbè anche tutte le fiabe ovviamente hanno le buone fiabe insomma hanno questa rappresentazione insomma hanno queste categorie del reale a cui rispondono Pinocchio ha questo aspetto insomma di essere un essere che sente che sente come un umano a tutti gli effetti ma invece è un qualcosa fatto di legno fatto in modo diverso come Gregor Sampson insomma che era uno scarafaggio ma che sentiva proprio come e si riportava dentro tutte le esigenze tutti i dolori tutte le sofferenze della vita di tutti i giorni mi piacerebbe che anche voi mi raccontaste la vostra esperienza con questo libro con questo personaggio di Pinocchio insomma cosa rappresenta per voi cosa ha rappresentato nella vostra vita come vi siete incontrati con lui cosa vi ha lasciato e se avete letto il libro oppure se lo conoscete attraverso le rappresentazioni che del libro sono state fatte o i racconti che vi sono stati fatti ed è questo anche che è nata così l'esigenza di leggere questo libro perché ripeto credo molto nel nel fatto che le opere bisogna leggerle nella loro forma primitiva nella forma con cui sono state costruite non tanto come poi sono state riprese trasformate rielaborate a seconda di tutti quelli che ci hanno messo mano che ci hanno pescato sopra elaborato e costruito sopra anche se in maniera egrezza insomma che taglio dare per esempio alla lettura di Pinocchio che taglio dare a questa lettura nel momento in cui la riprendi a una certa età insomma come come quella che ho io io ho cercato di dare un taglio il più come dire il più realistico possibile insomma anche se non è così facile ma cercando anche di limitare al massimo il fatto di fare le vocine no di fare tutta una serie di operazioni per cui questi personaggi diventano quasi delle macchiette e ho cercato invece di riportarlo a una certa concretezza nonostante questo per esempio ci sono delle cose simpatiche no in cui c'è si nota dell'ironia in collodi insomma e anche questo ho cercato quando l'ho accolta di valorizzarla insomma no l'ironia per esempio non so un po' la satira che fa dei medici che vanno da Pinocchio quando quando era dalla fatina a letto oppure il discorso che fa l'imbonitore del circo insomma che riguarda il ciuchino no tutto pieno di di errori visto che non era andato a scuola quello che comunque condivido soprattutto in quel tempo là è il ruolo della scuola la necessità della scuola per poter cavarsi fuori insomma no per poter avere il diritto l'accesso a una qualità dell'esistenza che soprattutto allora e anche quando ero giovane io non era possibile altrimenti insomma no se non andavi a scuola eri tagliato fuori la cultura insomma il modo di pensare di ragionare il modo di non essere completamente succube dei luoghi comuni insomma del modo di essere corrente la scuola era un elemento fondamentale e questo per esempio risulta molto bene dalla lettura di Pinocchio il valore e l'importanza della scuola da qui anche un po' la voglia di riprendere questo libro vabbè con il taglio che mi sono sentito di darsi che forse non è del tutto uguale alle altre letture che ci sono tra queste letture che ci sono insomma vi ricordo anche quella molto bella forse inarrivabile che è stata fatta da Paolo Poli insomma per la radio e alla quale anche vi rimando insomma perché anche quella è un modo di sentire Pinocchio poi ovviamente Pinocchio si presta a tutte le interpretazioni possibili insomma ho letto che ci sono state fatte anche delle delle interpretazioni che lo inquadrano anche come come un'opera massonica non non so a dire lo trovate se andate su Wikipedia trovate anche questa cosa io invece amo cercare un'interpretazione più di tipo analitico psicanalitico insomma in in quest'opera e ho trovato la cosa che più mi convince insomma come come interpretazione era era questa di Lacan che tra l'altro mi conferma in un'impressione che avevo avuto leggendo no questo personaggio Geppetto Geppetto in realtà diciamo viene rappresentato come il padre di Pinocchio ma ha una paternità molto strana no perché Geppetto alla fine concepisce Pinocchio perché vuole un qualcosa che sia fatto che gli serve insomma che sia fatto a sua misura lui dice vuole un bel burattino di legno un burattino meraviglioso che sappia ballare tirare di scherma e fare salti mortali e con il quale girare il mondo per guadagnarsi un pezzo di pane e un bicchiere di vino quindi insomma è la modalità di un artigiano di costruirsi un oggetto insomma un oggetto artigianale un qualcosa che serva e col quale poi guadagnarsi da vivere quindi non è tanto il il modo diciamo più più elegante per produrre tra virgolette un bambino no cioè un figlio il figlio nasce in genere da un atto d'amore insomma da un desiderio di di trasmissione di un'eredità che è anche un'eredità cromosomica insomma no che è anche vedere nel figlio una parte di se stessi non è costruirselo come come ti piace come vuoi cioè il figlio nasce così come come viene non scegli tu le sue fattezze mentre invece Gepetto è lui che se lo costruisce no che se lo fa dal pezzo di legno come più gli piace insomma oppure come meglio il pezzo di legno gli consentiva ma insomma mettendoci lui la sua fantasia insomma il suo il suo genio di costruire Pinocchio e Pinocchio fin dall'inizio Pinocchio non ha un'infanzia no cioè Pinocchio nasce già ribelle insomma non c'è tutta quella fase no tutta quella fase che nei bambini piccoli prelude poi il loro desiderio di ribellione di libertà insomma no bambino piccolo è una fase di accudimento di di che che manca che manca completamente insomma di acquisizione del linguaggio di acquisizione delle delle regole della famiglia insomma no che manca ovviamente in questa in questa rappresentazione di Pinocchio e poi Pinocchio nasce senza una madre quindi è un essere molto 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 strano insomma no cioè guardandolo dal punto di vista analitico mancano originariamente quelle componenti che che sono indispensabili insomma nella nella famiglia insomma nel modo in cui vengono generati e concepiti i figli e nel modo in cui vengono allevati insomma i figli cosa da cui non non prescinde la psicanalisi però allora la lettura che ne viene fatta diciamo l'ho l'ho ritavata dal web e ve la propongo e dice quello che a noi interessa mettere in luce in questa sede è la configurazione familiare che emerge dalla storia del burattino configurazione che è subito chiara per quanto il padre Geppetto e la madre Fatina non si incontrino mai qualcuno ha parlato di una famiglia di separati antelitteram sono due figure di riferimento fondamentali per Pinocchio ben tratteggiate e con ruoli diversi Geppetto è un padre demiurgo crea dal legno informe Pinocchio e lo fa principalmente per realizzare un suo desiderio che non è nella fase iniziale desiderio di paternità Geppetto vuole costruire un bel burattino meraviglioso come vi dicevo prima l'atto generativo come sempre anche nel collo di autore non è del tutto consapevole ha un po' di quella incoscienza che caratterizza ogni concepimento ma poiché il legno con cui Pinocchio è fatto è magico ed è in attesa di realizzare il suo destino il burattino sarà meraviglioso davvero un burattino vivo e dispettoso capace di far salti mortali Geppetto si pente subito di aver creato Pinocchio l'atto generativo tuttavia una volta compiuto è ineludibile la genitorialità di Geppetto è complessa tormentata e sofferta il rapporto fra padre e figlio è caratterizzato dallo scarto e dallo scontro generazionale birba ad un figliuolo non sei ancora finito di fare e già cominci a mancare di rispetto a tuo padre male ragazzo mio male me lo merito disse allora fra sé dovevo pensarci prima ormai è tardi sciagurato figliuolo e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene mi sta il dovere dovevo pensarci prima Geppetto è un padre tradizionale fin dall'inizio vuole imporre lezze e ordine a Pinocchio che vive invece nella dimensione del fantastico dell'infanzia del desiderio sfrenato il burattino ribelle non può che fuggire immediatamente da questo padre lezze infatti non appena Geppetto gli insegna a camminare Pinocchio scappa correndo a più non posso in realtà il burattino corre per tutto il racconto a fermare la sua prima fuga dall'ordine paterno è un rappresentante della lezze il carabiniere che prima lo restituisce al padre ma poi inspiegabilmente arresta Geppetto per la prima volta Pinocchio è davvero libero e torna a casa dove incontra il primo personaggio fantastico il primo animale parlante cioè il grillo durante l'incontro col grillo parlante che gli impartisce le sue sagge quanto noiose e indisponenti lezioni di vita e prima di ucciderlo con un martello di legno Pinocchio disse chiaramente qual è il suo desiderio vuoi che te lo dica? replicò Pinocchio che cominciava a perdere la pazienza fra i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio e questo mestiere sarebbe quello di mangiare bere dormire divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo Zeppetto rilasciato dai carabinieri torna a casa come un buon padre fa sacrifici nutre il figlio gli impartisce lezioni di moralità e di buon comportamento vende la giacca per comprargli l'abbecedario ma Pinocchio nonostante i suoi buoni propositi si distrae dal suo dovere fa altro fa quello che gli piace fare dal nono capitolo inizia il suo vagabondaggio nel mondo inizia l'esplorazione del desiderio in perfetta solitudine il primo atto della sua esplorazione è il rifiuto della scuola e l'ingresso nel gran teatro dei burattini ecco c'è questa anche che viene fuori insomma l'impressione che ho avuto nella lettura di questa solitudine di Pinocchio che si trova sempre da solo quando deve fare le scelte quando deve resistere alle tentazioni che gli vengono suggerite anche dalle figure che incontra e lui è solo e a un certo punto comincia a soffrire di questa solitudine ed è quella che poi la porta anche lo porta alla ricerca abbastanza affannosa e disperata del padre insomma e della Fatina un po' alla volta nell'andamento del racconto questa solitudine di Pinocchio alla ricerca del piacere e del godimento è una ricerca che è segnata sempre più dalla solitudine da questo senso di solitudine che diventa sempre più insopportabile all'interno del quadro di analisi lacaniano offerto da Massimo Ricalcati in un recente lavoro sul senso della paternità nell'epoca hypermoderna Geppetto è un padre legge che di fatto non ha l'autorità per educare il figlio e dunque si risolve in un padre castrato Pinocchio dal canto suo si muove all'interno della dialettica appartenenza a Ransa sviluppando in modo chiaro il giusto conflitto generazionale per accogliere la tradizione e l'eredità del padre Pinocchio deve negarlo allontanarsene e seguire un desiderio che sia solo suo infatti Geppetto scompare dal nono capitolo in poi per ricomparire al venticinquesimo diventa un personaggio in absenza Pinocchio entra cioè nella fase di erranza e di rifiuto del padre Lez per darsi al desiderio sfrenato tuttavia il desiderio senza Lez è quanto di più distruttivo possa esserci Pinocchio non fa che passare da un guaio all'altro ed è certamente la fase più divertente delle sue avventure nella sua erranza Pinocchio non è solo o meglio lo è fino al quindicesimo capitolo quando incontra la morte quando per la prima volta cioè vive una situazione estrema la prima figura femminile umana che Pinocchio incontra è una figura incantata e all'inizio è anche morta o almeno dice di esserlo Pinocchio in fuga dagli assassini come al solito corre giunge davanti a una tetra casina bianca bussa forse innatamente chiedendo aiuto si affaccia a una bimba allora si affacciò alla finestra una bella bambina coi capelli turchini e il viso come un'immagine di cera gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto la quale senza muovere punto le labbra disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo in questa casa non c'è nessuno sono tutti morti aprimi almeno tu gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi sono morta anch'io morta e allora cosa fai costi alla finestra aspetto la vara che venga a portarmi via appena detto così la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore la bambina dai capelli turchini non lo aiuta gli fa toccare il fondo da solo gli fa sfiorare la morte e quando sembra morto come lei a sua volta diceva di essere quando giungono cioè a una situazione di parità assoluta due bambini morti la bambina che si scopre essere una buonissima fata ha pietà di Pinocchio da qui inizia il rapporto fra i due inizialmente si tratta di un rapporto alla pari da bambino a bambina la fata vuole essere la sorellina di Pinocchio ma lo instrada subito verso il controllo del desiderio attraverso la legge e attraverso il principio di realtà lo mette cioè di fronte alle reali conseguenze delle sue azioni ad esempio la bara portata dai conigli neri quando Pinocchio non vuole prendere la medicina lo guida cioè all'acquisizione dell'ordine cosa che Geppetto non era stato in grado di fare si configura all'inizio una famiglia senza madre e col padre assente nonostante questa pervenza di famiglia Pinocchio continua a fuggire e continua a cacciarsi in terribili guai insensatamente si fa ingannare ancora dal gatto e dalla volpe viene messo in prigione dal giudice gorilla è costretto a fare il cane da guardia poi nell'isola delle api industriose ritrova la fata che non è più una bimba ma una donna è cresciuta forse anche attraverso il rapporto con Pinocchio morta la bambina Pinocchio trova la sua lapide al posto della casa nel capitolo 23 nasce la madre infatti la fata si propone a Pinocchio come madre di cui lui ha un enorme bisogno e che accoglie entusiasticamente nonostante le buone intenzioni Pinocchio fuggirà altre due volte dalla sua buona mamma dovrà superare prove difficili metamorfosi pericoli la madre con durezza ma con grande dolcezza è sempre lì a guidarlo e a perdonarlo per i suoi errori per le promesse tradite per le fughe per gli abbandoni gli consente cioè di attuare in modo sano il conflitto generazionale e l'erranza del nucleo familiare che porterà Pinocchio al controllo di sé alla rinuncia all'infanzia e a diventare un bambino vero Zeppetto fallisce come padre perché cerca di imporre a Pinocchio un'etica una legge superiore che il figlio non sente interiormente ma che viene dall'esterno una violenza che Pinocchio spirito libero e ribelle guidato dal desiderio sfrenato non può che rifiutare il lavoro della fatina madre è invece molto più accorto costruisce in salda la morale interna di Pinocchio che di base ha un buon cuore per farlo solo dopo e autonomamente approdare all'accettazione attiva dell'etica della legge come ordine superiore ed esterno che controlla e rende sano il desiderio lo guida dunque ad una interiorizzazione della legge molte delle avventure di Pinocchio nascono perché lui cerca il padre quando finalmente lo ritroverà nella pancia del pesce cane i ruoli saranno invertiti Pinocchio lo salva lo conduce a nuoto fino alla riva dove trova una casetta e inizia a lavorare e a prendersi cura di lui Pinocchio diventa la figura paterna diventa quel padre che Geppetto non è riuscito ad essere diventa in qualche modo migliore del padre senza la figura del padre tuttavia non è dato ordine né interiorizzazione della legge Pinocchio diventa un bimbo vero quando dentro di lui ha fuso morale ed etica quando si è talmente allontanato dal padre pur cercandolo da poter riaccogliere la sua eredità morale la scelta di Pinocchio è veicolata dall'altissimo ruolo educativo della fatina madre ma è una scelta spontanea Pinocchio decide autonomamente di lavorare di cambiare vita non ci sono più promesse verbali né buoni propositi c'è solo la necessità la responsabilizzazione di Pinocchio il padre rimane nei desideri e nelle parole di Pinocchio per tutto il romanzo quando è in pericolo pensa al padre che non c'è ma è la fatina madre a essere presente nelle forme più disparate essa è la figura certamente più solida del racconto e svolge in modo estremamente consapevole il ruolo che la donna ha nella famiglia italiana dell'ottocento cioè educare i figli questo ruolo assume una centralità e una vitalità nuova forse proprio con l'inadeguatezza del padre ad assumere responsabilmente un ruolo educativo i padri dei romanzi italiani dell'ottocento presi in analisi sono quasi sempre padri inadeguati come anche Gerpetto ma Gerpetto è una figura che alla fine viene recuperata nell'idea appunto che senza padre non è dato ordine nel Pinocchio si fonda e si delinea una nuova idea di famiglia non tradizionale perché il modello operante probabilmente non era sentito come solido tuttavia una famiglia in cui ogni componente assume il suo ruolo nella crescita di Pinocchio che giungerà ad introiettare l'etica del sacrificio e del lavoro rinunciando volontariamente al mondo dell'infanzia ed entrando dolorosamente nel mondo degli adulti Pinocchio non esiste vuole il bambino è onnipotente vuole tutto pesta i piedi fa i capricci questo è il bambino l'erotismo l'amore il senso indefinito il tutto dell'infanzia dopo cominciano i guai comincia l'imputridimento all'uscita dell'infanzia di Pinocchio si coglie in modo radicale la malinconia che ogni lettore coglie alla fine della storia l'inizio della vita vera di Pinocchio è anche la fine della fantasia un'ultima riflessione sul rapporto col mondo del lavoro mi sembra doverosa si è molto parlato del rapporto tra Pinocchio e Antoni il figlio ribelle ma velleitario dei malavoglia in Pinocchio approdare al lavoro in ogni sua forma anche la più umile vuol dire ritornare all'ordine vuol dire accettare la legge nella sua ineludibilità e vuol dire crescere rinunciare all'infanzia e smettere di ridere e divertirsi ma è un prezzo necessario il conflitto generazionale in Pinocchio non veicola il conflitto sociale che si concretizza nel mondo del lavoro il riscatto non nasce da un miglioramento dello status lavorativo da uno scatto sociale il riscatto in Pinocchio nasce nell'accettazione dell'ordine e dalla semplice accettazione del lavoro in ogni sua forma in Tony invece i conflitti familiari sono metafore di conflitti sociali lui vorrebbe essere di più attraverso l'avere di più sente in senso sociale l'ingiustizia dello sfruttamento del lavoro ma non può realizzare lo scatto sociale appunto perché il suo essere è velleitario Pinocchio quello scatto lo realizza passando attraverso ciò da cui in Tony non voleva passare io non voglio vivere come un cane alla catena come l'asino di compare Alfio o come un muro da bindolo sempre a girare la ruota io non voglio morire di fame in un cantuccio o finire in bocca ai pescecani Tony cioè non vuole vivere nessuna delle esperienze umilianti vissute da Pinocchio ma non passare attraverso queste esperienze fa di Tony un vivo passare attraverso i lavori più umili e degradanti fa di Pinocchio un bimbo in carne e ossa cioè un uomo e determina alla fine dei conti anche un riscatto sociale Pinocchio avrà una casetta nuova pulita e ordinata vestiti nuovi e puliti la Fatina dopo un ultimo bacio e poche dolci parole sparisce per sempre in un sogno Zeppetto ignaro di tutto o forse fin troppo consapevole continua a fare i suoi lavoretti e mostra a Pinocchio il burattino senza vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti